Ha resistito centinaia di anni e poi è arrivata la tromba d'aria e nel giro di pochi minuti è crollato il campanile ed ora l'antica chiesa di San Rocco, stessa ad Arzignano, rischia di cadere a pezzi. È l'effetto del maltempo dei giorni scorsi abbattutosi sull'Ovest Vicentino che continua a farsi sentire. La caduta del campanile di fatto ha coinvolto anche la navata centrale. Per terra si vedono i pezzi, ma è all'interno che si nota ancora di più il danno, mentre i banchi di preghiera e dove si siedono i fedeli sono coperti da un telo in plastica, nel tentativo di preservarli. Chiusa via Trento per ovvi motivi di sicurezza, ma l'amministrazione comunale è già al lavoro. Con determina proprio odierna di circa 25.000 euro, oggi abbiamo messo in sicurezza la chiesa di San Rocco. Contiamo entro il 18-20 settembre di poter riaprire la strada di via Trento che attualmente è chiusa. È chiaro che poi attendiamo il progetto definitivo per poter intervenire completamente sull'edificio e quindi attenderemo anche il parere dei beni ambientali e della sovrintendenza. La chiesa di San Rocco, costruita nel 1630 come voto per la liberazione dalla peste di manzoniana memoria, poggia le sue basi su un lazzareto e da allora ad oggi, ogni agosto, arzignano porta in processione il santo per le vie della città, mentre l'amministrazione verso un obolo, quale voto? Riconoscenza. È una chiesa a cui tra l'altro siamo particolarmente legati. Io per primo che sono proprio originario di questo quartiere, ma tutta la città di Arzignano è molto legata alla chiesa di San Rocco, proprio per tutto il suo passato storico.